Tranquillo Mario, è solo un piccolo intervento. Non mi chiamo Mario. Lo so, sono io Mario. No, mia dorata melina, sei caduta. Senza di te la mia vita è finita. E dai, e piantala di fare il melodrammatico. Ciao, 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 ciao. Sapete perché dico sempre ciao? Perché sono un piatto salutare. Devi smetterla di offendermi sempre. E dai, smettila di fare lo spermaloso. Sai qual è il biscotto criminale informatico? No, lo hacker. Non ti stanchi mai di queste battute? Sì, sono parzialmente stremato. Non voglio morire, vergine. Ok. Poff. Ma non è cambiato nulla. Invece sì, adesso sei immortale. Cosa desiderate? Per me è una Coca-Cola e una birra alla spina. Dove si trova l'Australia? A pagina 69 del libro. Vai fuori, non si scherza su queste cose. Mi scusi, ha ragione, l'Australia non esiste. Come mai sei così piccola? Perché sono una banana. Come mai è così pensieroso? Ha mangiato i miei appunti di filosofia. Dove stai andando, cappuccetto? Vado dalla nonna. Ok, in bocca al lupo. Mi dispiace, non possiamo più stare insieme. Questa relazione mi sta consumando. Scommetto che non hai ascoltato nulla di quello che ti ho detto. Che strano modo di iniziare una conversazione. Se non lo lasci andare, non sarai mai felice. Dimmi la verità, ti vedi con un altro? No, è sempre lo stesso. Siete gemelli? Sì, si vede, siete identici. Ciao, libro di matematica. Ti vedo giù di morale. Come mai? Ho un sacco di problemi. Sapresti descriverti in tre parole? Pigro. Papà, è vero che se tengo un piede fuori dalle coperte poi un mostro me lo mangia? Ma no, se ci fosse un mostro sotto il letto saresti comunque spacciato. Uffa, molta gente dice che sono piatta. E cosa pensi di fare? Semplice, mi rifaccio le tette. Ah. E' vero che se ti sono piatta. E' vero che se ti sono piatta. S 말�ata.